Ma buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati da Marco Azzurro in questo nuovo video sul canale. Ragazzi, oggi parliamo di un altro colpo del Napoli, parliamo di un giocatore che era già nel milino del Napoli da più di un anno e passa, se non erro. E sto parlando di Mattias Oliveira, il terzino sinistro sudamericano per l'esattezza uruguagio del Getafe. Dunque, a me personalmente questo terzino non fa impazzire, a me personalmente sembra uno di quei giocatori che sì, ok, è carino, ti fa due gol all'anno, ti fa quei cinque assist una volta ogni tanto, però è uno di quei giocatori che non ti fa impazzire, insomma, non mi fa impazzire, però il suo lo fa. Premesso questo, ragazzi, le richieste del Getafe erano davvero altissime, si parlava di 18 milioni l'anno scorso, quest'anno sono calate perché appunto il rendimento del giocatore è calato. Quindi quest'anno il Getafe potrebbe chiedere al massimo, se proprio la vogliono tirare per le lunghe, 12 milioni. Quindi ho qui l'articolo di Sky, Di Marzio, che ragazzi, Di Marzio è veramente affidabilissimo, se volete una notizia certa leggete le notizie di Di Marzio perché assolutamente lui è il top, e dice che il Napoli è pronto a avviare un'offerta, o almeno ad abbozzare un'offerta tra i 10 e gli 11 milioni di euro. Però ragazzi, l'unica cosa che Di Marzio non dice è se il Napoli ha intenzione di chiuderlo per gennaio, quindi per questa sessione, o lo chiuderà per la sessione prossima. Quindi una cosa un po' come successe per Rahmani due anni fa, che lo chiudemmo dall'Ellas per 17 milioni a gennaio e poi venne direttamente il ritiro a giugno. Il terzino, ragazzi, è sicuramente uno di quei terzini veloci che corrono come muli sulla fascia, e questo sicuramente è una cosa che mi piace perché Mario Lui non è che sia proprio il terzino più veloce dell'era. Però io non ricordo, forse ho già fatto un video in cui parlavo di Cristiano Rivera, in cui vi facevo vedere i suoi skill e le sue giocate migliori, e tra le sue grandi carte c'è anche il tegel, ragazzi. Quindi sicuramente è un giocatore che sa affondare bene il tegel e parecchie volte rischia anche il cartellino pur di riuscire a recuperare il pallone, ma questo non è nulla che non possa essere corretto. Dunque, sta solamente al nostro beneamato Cristiano Giuntoli decidere se affondare o meno il colpo, il Napoli sinceramente non mi dispiacerebbe neanche se lo prendesse per giugno, perché come ho detto, ragazzi, il Napoli ha anche Goulam che è tornato, e quindi il Napoli non ha proprio l'urgenza immediata di prendere il terzino. Però Goulam è un po' avanti con le anni, magari lo si vende in estate e c'è già pronto Oliveira, prendendolo a gennaio. Ditemi il vostro parere sul giocatore, io ve l'ho detto, personalmente lo reputo un giocatore non mediocre, ma di medio livello, diciamo comunque, non proprio una mezza calzetta, ma non è neanche un giocatore forte. Fatemi sapere la vostra. Ciao a tutti.